Frentino, dialogo, storia e verba, da Iepure su Frentino. Gli panini ciocciarono me. Caro Mc Donalds, scusami se mi comporto con poca eleganza, però come ho fatto gli altri che lavorano non potevano, che ho fatto fare più quadrini, ho riuscito a sfruttare gli usi e le tradizioni di altri posti, facendo il passato ciocciare. E' facile voi che, per l'importanza di sé, la sciocciaria sta in cima all'occhio di tutti, però ci ne ho messo da tempo, essi, prima di conoscerla. Ma tu chi sei? Dando noi, quello che fai lo sai, ma si mace, ho femmina. Ma chi si nasconde tra di quegli nomi? Ma tu la conosci questa terra. Ma tu lo sai che con la civiltà, la storia, l'arte e le tradizioni che tu, ogni paese sociale, ha imparato accampare a tutti gli mondi? Perché invece di rappresentarci la sinza in missa, per esempio per la frentina, la maestosa muro ciclobica, che bene si addigna agli panini di te, che avvicinano, che sono bellissimi, coloriti, e sembrano pure sostanziosi. E poi faccio vedere così, ricordate anche trucchi. E io ho messo tutte cose naturali. Vendato con una panina può mettere a uscire nel testamento di tavola, quindi li frisco. Il primo sistema di comunicazione di massa, altro che Bill Gates e la Microsoft 6. Tu manco te lo sogni quello che te la cioccheria. Lassato per degli ingredienti e gli dialetti, fondato invece in cima alla bellezza della cioccheria. Facita ti attrae negli monumenti nostri, perché solo così McDonald's troverà successo. Andando eci a trovare. Così te lo facimo sentire come parlavano gli dialetti e la mamma nostra ci facevano i panini. Mezzo addolesco del pane ci mettevano, nella zazzicchia. Megli si secca o sottogli. Oppure un po' di broccoletti ripassati in padella con gli agli, olio e po' parola. Oppure due fettine di ventresca, o la cicoria. Oppure fornevano il pane all'acqua e ci facevano la panzanella con i pomodori e il basilico. E a chi ci piaceva ci strusciava pure gli agli. E non dico che erano buoni le panini con la frittata. La preparavano con gli sparni, i cucuzzigli, le zazzicchi. E quando un mesi li procurava ci portava la forma da casa, ci mettevano una fetta a mezzi. Che volta ci facevano mangiare le pantuffe, che era la pizza gialla fatta con l'ocigliano. N'azzuppemmo una pezza alla volta agli sugo degli baccalà che era rimasto dalla sera prima. Con tanti saluti. Alessandro Pompeo. Frentino. 22 aprile 2009.